Facciamo questi tre battoli e poi si fa di Jam Session e Q-Controview, ok? And now, ladies and gentlemen, you have Gina and Neil on my left side and last alive secret weapon on my right one DJ Uraga DJ Uraga DJ Uraga DJ Uraga Grazie a tutti. Grazie a tutti.